Siamo dato Gesù Cristo, un carissimo saluto a voi che ascoltate. Non impedite ai bambini che vengano a me, lasciateli perché ad essi appartiene il Regno dei Cieli. A chi come essi si fa come loro appartiene il Regno dei Cieli. A chi sa farsi piccolo come un bambino appartiene il Regno dei Cieli. Quindi, qual è dunque la caratteristica dei bambini? È quella di andare direttamente da Gesù e di sentire e di volere il suo amore. Fuori da questo centro non c'è nient'altro. Quando crescono i bambini purtroppo ricevono tutte queste pulsioni della pubertà e quindi si innestano altre spinte e con essa quello che sono le potenzialità del peccato e delle origini si fa vivo. Il peccato delle origini infatti è un peccato di ribellione, di orgoglio, di superbia. Un peccato di tipo tutto spirituale perché gli angeli ribelli peccarono in questo. Ma si innesta nell'uomo attraverso la sua corporità. E dunque si risveglia il desiderio del potere sull'altro, delle relazioni, del dominio e dell'essere adorati dall'altra persona, dalle altre persone, in particolare l'uomo, dalla donna. E la donna, di essere cercata dall'uomo, partono di tutte le gelosie, le conquiste e con queste anche le competizioni. Ecco il desiderio dell'oro, cioè del danaro e quindi del potere. L'essere ammirati, l'essere deificati, l'essere al posto di Dio, essere Dio per gli altri. Sono tutte conseguenze che partono da quel momento lì. Fino a che si rimane bambini, tutto questo rimane latente, non viene fuori. Ed ecco perché i bambini veramente all'incontro di Gesù gli correvano incontro e lo cercavano. Gli adulti li spingevano perché la fede è una faccenda per adulti. È vero, di adulti però che attraverso un'apertura della mente e la conoscenza della verità devono sapersi fare nuovi nelle realtà dello spirito, cioè del cuore, quindi della volontà dove spinge l'anima alla ricerca del potere, della carriera, pur anche spiritualizzata, vestita di chiesa, ecco, le carriere ecclesiastiche, il potere sugli altri. Queste cose sono frutto del peccato travestito di religiosità. L'uomo dunque deve spogliarsi di tutte queste cose e rimanere solamente col cuore nel centro delle cose. Il centro delle cose è Dio. Dio è amore. Sentire, volere l'amore di Dio ed escludere ogni altro amore, ogni altro fermento, ogni altro lievito come quello dei farisei. Lussuria, avarizia, potere, conflitto. Tutto questo possiamo escluderlo proprio perché Gesù ci dona il suo spirito e ci permette di ritornare bambini, così come egli suggerisce e insegna, per rinascere nuovi, ma dall'alto e non dalla carne, dunque, con tutte queste eredità. È, come sempre, un fatto di buona volontà nostra nel volere e desiderare per poter ricevere il dono di riuscire ad esserlo. Beati noi, dunque, quando sentiremo e vedremo scomparire dai nostri orizzonti ogni altra cosa, ogni altra persona, è solamente il Cristo, Gesù. Il centro dell'amore del Padre che si fa per noi visibile sulla terra diventa il nostro centro, il nostro sole. Dio vi benedica. Grazie. Grazie.